La giovane Italia sta meglio, è un po' quella delle ultime due stagioni. Dopo l'Irlanda ci sono i campioni del mondo, qualità e quantità. Ecco la Francia per gli azzurri di Massimo Brunello. Gallorini, Pisani due piloni, siciliano il tallonatore. Spinge l'Italia, che meraviglia! Avanzamento netto, deciso. Occhio perché ci potrebbe essere quasi la testa. Casigno che si gira e cerca di trovare la meta. La trova. Ma che bravo! Calcio abbastanza facile. Non sbaglia. E non sbaglia. Tre per la Francia, cinque per l'Italia. E stavolta... Martino, sì! Non sbaglia! A segno, i punti dell'Italia sono otto, tre quelli della Francia. Attenzione, se ne va Broboary e poi Zamora! Flash della Francia. Pucciariello all'interno. Tutto buono! Numero, Scalabrin! Chi lo ferma? Eh, l'hanno fermato. In tre, due, due e mezzo. Due e mezzo, i giocatori e mezzo per fermarlo. Altra bella carica di Pisani. Bravo, sì. Si ritorna dalla chiusa dove c'è... Segna! ...il tentativo riuscito da parte di Scalabrin. Nel non silenzio francese, Pucciariello... No, lo mette dentro, sai. Sì, bravo! Otto per la Francia, sedici per l'Italia. Bella azione, alla fine le gambe di Granel. Granel! Eh, questo va. Passa alla grande Fabien Broguari. Spinta, spinta dopo il tallonaggio. Cercare di avanzare. Buona, buona. Avanza l'Italia. Buona, deve dare la tecnica. Tenere il pallone dentro! La fa, la fa! Botturi schiaccia la meta dell'Italia. Bravissimi. Con la mischia, ancora la mischia. Martino Pucciariello. La sulle bandierine. 20 a 23, più 3 per l'Italia. Avanti, avanti! È finita la partita, è finita. L'Italia vince a Bézier contro la Francia. È la prima volta per una selezione under 20. dal 2020 a oggi, la prima volta nel 6 nazioni under 20. La prima vittoria del 6 nazioni 2024 under 20. Incredibile. ard外ões originale inter innovation. Doi una prima інcat huffinki. È prima finale.